La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Proviamo a capire insieme cosa accade quando al governo di un paese arriva un uomo proveniente dalla banca d'affari americana Goldman Sachs. Facciamo un passo indietro. Nel 2011 due uomini provenienti dalla Goldman Sachs, Mario Monti e Mario Draghi, diventano rispettivamente presidente del Consiglio del Governo Tecnico in Italia e governatore della Banca Centrale Europea. Tutto avviene nell'arco di due settimane. Draghi il 1 novembre del 2011 e Monti il 16 novembre 2011. Ma tra quelle due date si inserisce quella di un'altra figura collegata alla Goldman Sachs, ossia Lucas Papademos, che diventa il presidente del Consiglio Tecnico in Grecia l'11 novembre del 2011. Quindi già la tempistica lascia qualche sospetto sul legame tra i tre con la controversa banca d'affari americana. Ma proviamo ad analizzare cosa avessero in comune e che ruolo abbia avuto la Goldman Sachs nei loro prestigiosi incarichi. Monti era arrivato al governo tecnico in Italia a causa della crisi dello spread indotta dalle grandi banche, tra cui proprio la Goldman Sachs. Come riportato da Milano finanza l'11 novembre del 2011. Un link ad un articolo che io ho riportato nel mio libro La Matrix europea e in diversi altri articoli. Ma quel link oggi non è più al momento disponibile. Dicono a causa di un errore. La stessa Goldman Sachs che aveva contribuito a truccare i conti della Grecia per permetterle di entrare nella gabbia dell'euro insieme all'allora governatore della banca di Grecia che guarda caso era proprio Lucas Papademos ed utilizzando per truccare quei conti dei derivati che sono quegli strumenti finanziari che chiamano in causa anche Mario Draghi che tra l'altro è membro di quel potentissimo e il ristretto gruppo denominato gruppo dei 30 responsabile di aver redatto il report derivati pratiche e principi, ossia quello che può essere considerato il manuale di istruzione di questi strumenti finanziari che si dimostreranno delle vere e proprie armi finanziarie di distruzione di massa e responsabili delle varie crisi. Bene, a denunciare pubblicamente che i conti della Grecia fossero stati truccati dalla Goldman Sachs fu l'ex primo ministro greco Papandreu e sapete cosa accadde dopo? Papandreu fu costretto dai mercati alle dimissioni e fu sostituito proprio da chi quei conti aveva contribuito a truccarli, ossia Papademos che è stato poi anche vicepresidente della Banca Centrale Europea. In pratica Goldman Sachs operando sui mercati tra crisi indotte e conti truccati aveva piazzato nella stessa settimana tre dei suoi uomini imposti chiave in Europa. Draghi ebbe i primi rapporti con la Banca d'Affari americana nel 1992 offrendole su un piatto d'argento i apprezzi di saldo le aziende e le banche pubbliche italiane nella conferenza sulle privatizzazioni che si tenne a bordo del panfiro dei reali ingresi, il Britannia. Tra champagne e caviale nonostante la sfarzosa minicrociera fosse stata organizzata soltanto dieci giorni dopo l'omicidio di Giovanni Falcone, quindi in un momento in cui gli uomini di Stato dovevano stare a lutto. Il tutto è documentato anche da un servizio della tv pubblica tedesca dove si parla del governo mondiale Goldman Sachs. Bene, oggi è nuovamente un uomo di questa banca d'affari americana che prende in mano le redini del governo italiano. Ai posteri l'ardua sentenza. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.